Vieni con noi, si vincerà, unisciti a noi, sorriderai, con te vicino e una forza in più, senza pensare tu vieni qua, e galerà un sorriso che la gioia ti ritornerà, la nostra voce trema e più forte urlerà. Vieni qua, vicino a noi, lontano non è la felicità, molti problemi si allevieranno e tante lacrime insieme a te si asciugheranno gli occhi, un sorriso poi ritornerà, tanti ragazzi, un futuro ci sarà. Tendi la mano, resta con noi, sogno lontano si avvererà, dai vieni con noi. Ci siamo Anna? Ci siamo Alfredo. Hai visto quanta gente qui in piazza? Ma tanta, 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 ma tutto per fare solidarietà? Tutti per fare solidarietà con l'AISA. Esattamente, Associazione Italiana per la lotta alle sindrome tassiche. E quale madrina migliore potevano scegliere? Anna Calem. Grazie, quale presentatore storico migliore è Alfredo Mariani? Ma diciamo che io ti assisto, ti faccio l'assisto. Ma dai Alfredo, dai, dai, che insieme siamo una coppia vincente. Vincente, noi vinceremo sempre perché vincendo noi vincono i ragazzi dell'AISA. Esattamente, esattamente, quindi stasera grande serata, grande kermesse, tanti artisti, tante novità che non vi sto qui a dire. Siamo fatto qualche, no, intanto ho parlato di assist e di vittoria. Gioca il Napoli, con la Fiorentina. E allora forza Napoli! Forza Napoli! Non ci lasciamo prendere Alfredo, facciamo assist. Rimaniamo in tema canzoniero, canzoni di spettacolo. E allora, voglio dire, vediamo chi c'è, chi c'è. Vediamo un po', vediamo un po', tanti personaggi, io leggo tante persone. Vogliamo dire la persona che viene da più lontano? Diciamo quella che viene da più lontano. Allora, diciamo Paola Ferrulli, perché lei viene da Bari, ma viene direttamente da ti lascio una canzone. Ma chi apre, chi apre? Chi apre? Ma guarda, mi vuoi far svelare tutto questa sera? Ti dirò che abbiamo ancora altre mini presenze su questo palco. Ma non sono folletti, no, non sono folletti, no. Allora ci sono le miss grandi. Ci sono le miss grandi. Però ci sono anche le miss piccole. Le miss piccoline, che faranno le vallettine. Allora rimanete con noi. Da questa postazione parte il programma dedicato all'AISA. Sicuramente. Da Piazza 3S e Trento con Anna Calemme. Alfredo Mariani. Rimanete con noi. Certo, vi aspettiamo. Tieni la mia mano, andremo ancora lontano, queste malattie, no, non si vedranno più. Tieni la mia mano, andremo ancora lontano, queste malattie, no, non si vedranno più. Grazie.